Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo. Diamo insieme uno sguardo al tempo previsto in Europa. Alta pressione che resta defilata e che non interessa l'Europa centro-settentrionale dove invece c'è questo vortice di bassa pressione che andrà a influenzare il tempo anche al centro-nord della nostra penisola dove la situazione sarà ancora a tratti instabile. Meglio al sud e tutto questo accompagnato da temperature e ancora a tratti sotto alle medie del periodo. Vi invitiamo a seguire la vostra località di interesse tramite il sito e l'applicazione di Trebimeteo.